La risposta breve alla domanda del titolo del video è probabilmente no, però ovviamente ci sono tantissime cose da dire a riguardo. Ma andiamo un attimino con ordine, prima mettiamo insieme un attimino le novità. Appena prima dell'inizio dei campionati mondiali indoor di Glasgow, che si sono svolti dall'1 al 3 marzo, c'è stato il 234esimo consiglio della World Athletics, dove spesso e volentieri, e anche in questo caso, sono avvenute delle decisioni che avranno ripercussioni sui prossimi anni. Per esempio, in tale consiglio si è ritirata Roma dalla candidatura dei campionati mondiali outdoor del 2027, i quali sono stati assegnati così a Pechino, e tra le altre varie decisioni c'è un trafiletto all'interno del press release, cioè il comunicato stampa, che dice che dal 2025 verrà abbastanza cambiato il calendario internazionale, perché viene detto che i campionati mondiali, quelli all'aperto ovviamente, saranno il culmine della stagione all'aperto, e segneranno quindi anche la sua chiusura. Questo ovviamente implica anche uno spostamento in sede temporale dei campionati mondiali, non più come per esempio sono stati nel 2023 durante il mese di agosto, ma d'ora in poi saranno in una finestra temporale fissa durante il mese di settembre, più o meno a metà mese. In questo modo ovviamente si vuole anche costruire una narrazione intorno alla stagione, che andrà poi a culminare con i campionati mondiali l'importante evento internazionale di quell'anno. In più si va anche un po' a evitare quella cosa molto strana che succede attualmente in atletica, cioè che finisce il campionato mondiale, poi ci sono altri meeting, altre magari le finals della Diamond League, dove ci sono risultati che sono migliori di quello che ha vinto il campionato mondiale magari tre settimane prima, creando di fatto anche un po' una incoerenza a livello narrativo per quanto riguarda la stagione all'aperto dell'atletica. In che parli con uno che ha sempre fatto atletica non si pone il problema, perché uno sa che comunque la grande prestazione non sempre arriva nel momento esatto in cui la vuoi, comunque ai campionati mondiali magari ci sono anche altre dinamiche che ti portano a fare un risultato a livello cronometrico non super eccezionale. Vediamo per esempio magari il mezzofondo dove ci sono delle gare tattiche, oppure banalmente piove durante i campionati mondiali. E il fatto che magari un atleta dopo due o tre settimane dalla fine dei mondiali ti fa un tempo che è nettamente migliore del campione mondiale, ti viene un po' anche da dubitare del ma è giusto che quello là sia stato il campione del mondo? E quindi il fatto che i campionati mondiali outdoor andranno a chiudere il cerchio della stagione all'aperto, anche a livello narrativo e di comunicazione diventa molto più interessante, sia per chi pratica l'atletica sia per chi magari la conosce poco e quindi non gli sorgerebbero domande strane perché non vedrebbe poi prestazioni migliori dopo i campionati mondiali, in teoria. Ora dobbiamo però scontrarci con un problema di natura interpretativa del comunicato stampa della World Athletics, perché da come è scritto potrebbe sorgere il dubbio che da adesso in poi, dal 2025 in avanti, ogni singolo anno ci siano i campionati mondiali, perché c'è proprio scritto ogni anno terminerà con i campionati mondiali che si terranno bla 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 a fine stagione, come detto 42 secondi fa. E quindi tutti hanno cominciato a cercare di capire cosa volesse dire questa cosa. E ci sono tre possibili opzioni. La prima è quella letterale, cioè ogni singolo anno ci sono sempre i campionati mondiali, ogni metà settembre tu sai che ci sarà un campionato mondiale. Tuttavia questo andrebbe anche ad impattare con i giochi olimpici, perché quest'anno ormai va come va, non cambia nulla il calendario. Nel 2028 però ci saranno i giochi olimpici di Los Angeles, che si svolgeranno dal 14 al 30 luglio, e sarebbe abbastanza strano avere da lì a un mese e mezzo i campionati mondiali di atletica, perché a quel punto si creerebbe veramente una situazione strana e non piacevole a livello di comunicazione. Perché magari hai il campione olimpico che non ti fa i campionati mondiali, perché ha detto che la sua stagione finiva lì, perché deve riprendersi, perché ha altri impegni. E uno che vince i giochi olimpici, che è la massima competizione a livello di prestigio che possa mai raggiungere un atleta, poi avrebbe anche tutte le ragioni per non partecipare a un campionato del mondo, che è un gradino sotto a livello di prestigio. E quindi si rischerebbe di avere nel 2028, poi vabbè ovviamente 2032 e via di seguito, dei campionati del mondo praticamente mezzi deserti dai migliori atleti al mondo, e quindi diventerebbero un po' dei campionati mondiali di serie B. E visto che la World Athletics vuole impegnarsi a vendere l'atletica anche a un pubblico, vuole farla diventare narrativamente anche più interessante, proprio questo è il motivo di questa scelta, un campionato mondiale nell'anno dei giochi olimpici mi sembra veramente una mezza stupidata. Quindi la vedo veramente poco probabile questa opzione. Opzione numero 2, che a livello di probabilità è un po' maggiore della precedente, ovvero ci saranno i campionati del mondo ogni singolo anno, eccezione fatta per i giochi olimpici. Ora effettivamente questa potrebbe essere una cosa sensata, dare ogni anno un campionato mondiale all'aperto, proprio per culminare la stagione per avere cose importanti ogni singolo anno. Tre volte i campionati mondiali, una volta i giochi olimpici. E si andrebbe così ad eliminare una stagione ogni 4 che attualmente risulta un po' vuota dal punto di vista mondiale. Perché il 2026, 2030, 2034 e via di seguito ogni 4 anni, non hanno attualmente né campionati mondiali, se non quelli indoor, che però a livello mediatico sono molto inferiori a quelli all'aperto, e non hanno neanche i giochi olimpici. E in quell'anno bisogna accontentarsi, ovvie le virgolette, dei campionati continentali, che anche lì ovviamente hanno molta meno risonanza mediatica di un campionato mondiale. Ora, premesso che questa è comunque un'ipotesi valida e sensata, andrebbe però a cozzare contro diverse dichiarazioni date nei mesi scorsi da parte della World Athletics. E anche contro un po' la logica, a dir la verità. Perché da una parte vi ricordo che qualche mese fa, Sebastian Coe, il presidente della World Athletics, ha detto che stanno studiando, stanno provando a ideare un nuovo format a livello mondiale da lanciarne nel 2026. Proprio perché quello è un anno vuoto, come abbiamo detto poco fa. In teoria dovrebbe essere un evento un po' ridotto, della durata di solo tre serate, in cui ci sono i migliori al mondo, senza guardare le nazioni partecipanti, di cui però i dettagli non si conoscono ancora. E quindi con l'idea di questo nuovo evento internazionale, mi sembra strano poi metterci anche i campionati mondiali. Perderebbe il senso di questo nuovo evento internazionale. Quindi, o la World Athletics ha cambiato idea, e questo fantomatico nuovo evento è andato praticamente a morire, oppure banalmente questa seconda ipotesi è quella sbagliata. Anche perché, aggiungiamoci il fatto, che ok, sono stati annunciati i campionati mondiali del 2027 a Pechino, però a Pechino mancano tre anni, e mancherebbe l'ipotetica sede del 2026. Ora, quale città potrebbe mai ospitare un campionato mondiale tra soli due anni? Anche perché, ora che si riescono a fare tutte le cose per scegliere una candidata, passano diversi mesi. Cioè la candidatura per i mondiali di Roma del 2027 è partita mesi e mesi fa, ed è stata comunque una cosa che è stata fatta in velocità, perché c'erano già diverse altre città che da diversi anni avevano dato intenzione di ospitare i campionati mondiali. Aggiungiamoci il fatto che se ci fossero stati accordi preliminari con qualche città per ospitare degli eventuali campionati mondiali nel 2026, qualcosa sarebbe trapelato, perché comunque è una cosa di livello pubblico e non puoi tenerla nascosta. E in più, non è neanche stato detto nel comunicato stampa, guardate che nei prossimi mesi vi annunceremo che ospiterà i mondiali del 2026, perché questo avrebbe tolto anche un po' di dubbi. Inoltre aggiungiamoci ancora un altro fatto, che il Regno Unito ha intenzione di ospitare i campionati mondiali del 2029, e stanno discutendo per quella eventualità. Quindi si comincia a parlare adesso di un'eventuale candidatura per una città, per un campionato mondiale da qui a 5 anni. Per quello la vedo veramente dura che sia tra qui a 2 anni un campionato mondiale. Quindi terza e ultima opzione, che secondo me è quella più probabile, ma è anche quella più quotata sui vari social, come per esempio X, l'ex Twitter o X, non so come si pronunci qualcosa lì, dove per esempio anche Athletics Weekly ha detto che molto probabilmente intende il fatto che ogni anno è inteso con ogni anno che ci saranno i campionati mondiali termineranno a metà settembre, ma senza stravolgere ulteriormente il programma gare. Quindi 2025 saranno a Tokyo, 2027 a Pechino e via di seguito, quindi in tutti gli anni dispari, senza nuovi campionati mondiali nel mezzo. Il che sarebbe anche in linea con il fantomatico nuovo evento del 2026. Ovviamente questa novità del fatto di portare i campionati mondiali a metà settembre, il che è anche una bella roba, sapere che in una data più o meno ci saranno i mondiali, e non che variano magari di mesi, porterà per forza di cose a ricalendarizzare anche la Diamond League, perché è attualmente lei quella che chiude la stagione. Le finalists della Diamond League del 2024, per esempio, ci sono il 13 e il 14 settembre, giornate ipoteticamente occupate dai mondiali l'anno prossimo. Anzi, togliamoci pure l'ipoteticamente, perché l'anno prossimo iniziano esattamente il 13 settembre i mondiali. E quindi mi immagino che d'ora in poi, quando ci saranno i campionati mondiali, la Diamond League avrà la stessa calendarizzazione che ce l'avrà nel 2025, ovvero con il termine due settimane prima dei campionati mondiali. Infatti l'anno prossimo la Diamond League terminerà il 28 di agosto, di fatto rendendo la Diamond League ancora più importante per quanto riguarda il fare i minimi di partecipazione diretta per i campionati mondiali, visto che a due settimane prima dei campionati mondiali è l'ultima opzione per farli, e in più diventerà essenziale per guadagnare punti preziosissimi per quanto riguarda poi il discorso dei ranking. Arrivati a questo punto del video vi interessa per forza di cose, almeno un pochettino il discorso e quello che sto facendo, quindi vi ricordo di lasciare un mi piace al video per supportare anche il canale, iscrivervi se non l'avete ancora fatto, e vi ricordo anche che esiste la possibilità di abbonarsi al canale se volete supportare attivamente Pillole di Atletica. Ma ora non perdiamo altro tempo a fare spam e devo aprire un discorso abbastanza noioso, cioè quello dei problemi comunicativi della World Athletics, perché come detto all'inizio video, non si capisce bene cosa intendesse il comunicato stampa, è aperto a interpretazioni. Come abbiamo visto ci si può ragionare sopra, si può capire qual è la cosa più probabile, ma certezze non ce ne sono. E questo nel giro di pochissimo tempo è già il secondo scivolone, il secondo errore a livello comunicativo della World Athletics, perché cosa costava aggiungere una riga in più in maniera tale da togliere ogni possibile dubbio immaginabile. Inoltre nella pagina dove ci sono i verbali e le decisioni della World Athletics, a distanza di più di una settimana da quel concilio, non ci sono ancora i verbali. Uno non può neanche guardarsi la documentazione per capire effettivamente cosa intendessero con ogni anno terminerà con i campionati mondiali. E l'altro errore a livello comunicativo fatto dalla World Athletics nell'ultimo periodo riguarda la sperimentazione del togliere l'asse del nullo per quanto riguarda i salti in estensione. Perché non sto dicendo che è un problema togliere la pedana perché quello è un discorso soggettivo, ne ho parlato già in un altro video e quindi non ne parlo assolutamente adesso. Il problema lì è stato come la comunità di atletica ha scoperto questa cosa. Perché ad oggi non c'è un comunicato stampa sulla World Athletics, non c'è una news, non c'è nulla a riguardo di questa possibile novità. La news, quella dell'asse del nullo, è saltata fuori perché il CEO della World Athletics è stato intervistato in un podcast e da quel podcast sono emerse quelle dichiarazioni. Cioè è possibile che il massimo organo internazionale di atletica non abbia poi pensato di fare un comunicatino stampa di questa cosa come se non sapessero che adesso tutto il mondo lo sa? Cioè mi immaginavo che nel momento in cui, per errore immagino, esce la notizia su un podcast e non sul sito ufficiale di una roba grande come la possibilità di togliere la pedana del nullo, la World Athletics avrebbe perlomeno corso ai ripari e mettendo un comunicato stampa, un articolo di spiegazioni e invece io non ho trovato nulla. Poi magari all'interno del dedalo del sito della World Athletics c'è da qualche parte qualcosa di scritto. Però in ogni caso, anche se ci fosse, sarebbe un altro errore comunicativo perché una cosa così grossa la metti in prima pagina grossa vicino alla faccia di Mondo Duplantis per dire. Sì, lo so che Mondo Duplantis non c'entra nulla con i salti in estensione però primo nome che mi è venuto in mente. E quindi niente, io ho detto tutto quello che dovevo dire oggi. Mi raccomando, fatemi sapere nello spazio sotto nei commenti cosa pensate di questa ricalendarizzazione internazionale di atletica. Se vi piace l'idea, se vi piace l'idea che ogni anno che ci siano i campionati mondiali saranno a metà settembre con l'ultima gara importante della stagione. E fatemi sapere anche cosa pensate di questi errori comunicativi della World Athletics perché secondo me sono abbastanza gravi. E niente, lo spam di lasciarmi piace, iscriversi, abbonarsi e quant'altro l'ho già fatto prima quindi non mi resta che augurarvi buon divertimento, gli allenamenti e buona fortuna alle gare. Ciao ciao!